ciao ragazzi un saluto da maurizio benvenuti sul mio canale qui davanti a me ho l'S21 Ultra 5G adesso ve lo mostro questa è la scatola che lo contiene ed eccolo qua in tutta la sua bellezza lo tiriamo fuori non mi soffermo sulle specifiche perché il video deve mostrarvi altro questo è l'S21 Ultra 5G questa è la versione silver dietro ci sono il pacco fotocamere vi ricordo che questo telefono registra video fino a 8k zoom digitale fino a 100 per 5g display 120 hertz ma questo oramai già si sa youtube è pieno di questi video lo scopo di questo video oltre a mostrarvi il telefono che oramai già sapete come è fatto vi farò vedere aprirmi insieme questa confezione che contiene una protezione per la fotocamera questa cover che a dir la sua protegge molto bene l'S21 Ultra e infine una pellicola quindi le apriremo tutte e tre e le applicheremo sul telefono bene iniziamo mettiamo da parte il telefono cominciamo con l'aprire la cover questa è la cover della spighe faccio vedere bene il modello a tutto dei rinforzi che ammortizzano bene il cellulare dalle cadute è fatta molto bene addirittura c'è un supporto per poter non si fa così così in orizzontale lo smartphone in materiale è davvero fatto bene questa qui su amazon mi sembra che costa attorno ai 18 euro sul sito ufficiale 34 quindi un'ottima convenienza a comprarla su amazon qui ci sarà il link in descrizione la mettiamo subito quindi a questo punto direi che togliamo una pellicola ne togliamo un'altra e poi togliamo anche quella che è già applicata sul cellulare a questo punto il telefono è nudo e nudo e crudo quindi spoglio di tutte le sue protezioni noi andiamo a mettere qui dentro ed ecco qui effettivamente usare questo telefono senza cover senza protezione è un po un rischio anche perché scivola molto è molto 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 invece così si ha un buon grip poi qui è in rilievo perché se batte così se lo tenete distanziato dal pavimento e poi comunque è bella adesso ve la faccio vedere bene ci sono i tasti che si spingono bene tutte le porte sono accessibili e due microfoni adesso a questo punto io la tiro via perché come prima cosa installeremo la protezione della fotocamera ma prima cosa che faccio visto che la protezione della fotocamera mi sembra che copri anche gli obiettivi faccio due foto senza e poi due foto con così magari riuscite a capire se questa protezione ti va a rovinare le foto bene io devo da fare aspettate eccoci qua adesso proveremo ad installare la protezione della fotocamera sempre della spiegel all'interno dovrebbero esserci due protezioni questo qr code vi linka al video per l'installazione così vi fa vedere come si installano quindi adesso apriamole insieme per la prima volta è il contenuto della confezione è questo c'è un sacchettino con un cartoncino spiegel all'interno troviamo tutto il necessario per poterla installare qui ci sono le principali istruzioni dobbiamo pulire la fotocamera togliere l'adesivo sotto il vetro beh tutto chiaro non dovrebbe essere difficile proviamo qua c'è una piccola che riesco ad aprirla questi a lesivi per togliere eventuali granelli di polvere poi mi preparo tutto come potete vedere qui non è forato eh quindi è praticamente tutto intero speriamo che questo non pregiudichi la qualità delle foto comunque va così a questo punto puliamo bene usiamo questi adesivi per e adesso scolliamo con molta delicatezza facendo attenzione a non sbagliare grazie 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 non sono stato proprio centrale perché vi assicuro che la prospettiva vediamo un po se riesco a staccarla ci riesco quindi ci riproviamo e questa sicuramente è andata bene lo spessore è di poco superiore premiamo bene in modo che aderisca perfettamente senza bolle d'aria comunque gli obiettivi sono liberi così non rischiamo che l'appoggiamo e si graffia perché è molto delicato quindi consiglio l'acquisto di questo accessorio bene a questo punto metto la cover all'interno della confezione ma secondo me secondo me forse veniva centrata meglio bene come potete vedere questa cover ti tiene all'interno la fotocamera quindi non te la fa sporgere fuori a questo punto dobbiamo installare la pellicola così l'abbiamo protetto a 360 gradi prendiamo adesso l'altra protezione mettiamo via questa qua e questa è la pellicola chiaramente non è in vetro ma dovrebbe essere in silicone perchè in vetro secondo me sullo schermo curvo non è proprio una gran cosa comunque poi se ne trovo delle valide le prenderò e le metterò sul mio canale c'è il solito QR code che mi mostra il video e le istruzioni per l'installazione vi ricordo che in descrizione troverete i link di amazon bene apriamole vediamo cosa c'è al suo interno togliamo via questi nastri ah c'è un cartoncino dentro vediamo un po' ecco qui c'è ancora un'altra bene tutta vuota non c'è più niente al suo interno ci abbiamo trovato questo liquido che ci serve per ristallarla e posizionarla nel modo più preciso possibile pannetti vari adesivi per eliminare residui di polvere e anche un cartoncino per poter stendere bene la pellicola qua ti dice se hai problemi che dopo non ti riconosce le impronte devi fare di nuovo la taratura dell'impronta e poi dopo infine ci troviamo la pellicola dovrebbero essere due se non mi sbaglio anzi sì due facciamo le cose precise tiriamo via tutto in modo che liberiamo la base d'appoggio e teniamo fuori solamente l'occorrente che ci serve apriamo questo sacchettino come si apre qui la confezione davvero è ben fatta è tutta bella ordinata quindi come ho detto troviamo i vari adesivi per poter rimuovere residui di polvere un cartoncino per stendere la pellicola che ha una specie di bordo vellutato in modo così da non graffiare la pellicola e adesso io a questo punto fare così adesso vi tiro su un po' la telecamera a questo punto fare così perché ci sono dei residui di polvere prima le facciamo spigen poi ci consiglia di montare la pellicola con la cover installata l'ho messa al contrario sto rimbambendo così bene a questo punto puliamo bene l'ho tolto perché se era annidata della polvere qui nella cornice quindi spigenerò non 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 Bene? Qui, se riesco a staccare la pellicola qui senza fare danni, ma vi dico che è proprio incollata bene, quindi. Eccola qui, dovrò smetterla di mangiarmi le unghie. A questo punto abbiamo liberato la pellicola, abbiamo questo accessorio, dobbiamo spruzzare sopra un po' del liquido, perché questo qua ci permette di posizionare la pellicola in modo abbastanza, sicuramente voi farete di meglio perché considerate che io sono dietro la fotocamera, con il liquido non avete problemi perché il telefono è resistente. Grazie. Ed ecco il risultato. Come avete visto, io ho cercato di montarla con la cover, però secondo me non è proprio, cioè devi stare a una precisione millimetrica per farcela stare con la cover montata, perché se la tiri troppo da un lato non va sotto la cover, se la tiri troppo dall'altro la stessa cosa, se la tiri troppo su o troppo giù fa la stessa cosa, l'unico modo per farla aderire perfettamente è stata quella di togliere la cover e montarla, però adesso io l'ho montata, questa qui quando metto la cover ci deve stare su e noi la proviamo. Bene ragazzi, l'installazione della pellicola è terminata, vi faccio vedere che zero bolle, a cover montata la pellicola non si alza nei bordi, ve la mostro ancora più da vicino, dietro la protezione per la fotocamera coincide perfettamente col foro della cover e poi pezzo forte la cover, davvero un'ottima cover, resistente, sensazione di sicurezza quando lo si tiene in mano, ottimo grip e ottima sensazione al tatto, i materiali sembrano davvero di buona qualità, fatto sta che con Spigen proteggi il tuo smartphone a 360 gradi, perché ti fornisce pellicola, custodia e protezione per la fotocamera, ripilogando quello che è stato utilizzato è la cover Spigen, questo è il modello, pellicole che proteggono lo schermo, due pezzi e quest'altro è il modello, e infine protezione per la fotocamera, e questo è il modello, i link Amazon ve li metto in descrizione, i prezzi sono davvero buoni perché questa cover sul sito ufficiale della Spigen costa 34,90, su Amazon 18 euro, quindi direi che la convenienza c'è, spero che questo video sia stato utile a chi doveva comprare accessori per il suo S21 Ultra, vi faccio vedere, si sblocca anche subito con la pellicola, quindi non ti va a rompere le scatole riguardo allo sblocco, come dicevo spero che questo video sia stato utile a chi doveva acquistare custodia pellicole oppure proteggi fotocamera per il suo S21 Ultra, quindi se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace, se non sei iscritto ti invito a farlo perché così sarai informato dei futuri video che verranno sul mio canale, e con l'S21 Ultra ti dico ciao ciao